Un cordiale saluto amici dell'ospite, l'ospite, il presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, Massimo Ferrarese. È un incontro che noi chiediamo, a forza anche pretendiamo, esistiamo perché dobbiamo pure dare delle risposte a tante sollecitudini che ci vengono dalla pubblica opinione, non solo Brindisina ma anche da quegli amici che Brindisini sono e che mi vivono all'Elzola. Grazie per essere venuto Presidente. Un tempo per noi ci trova sempre, vero? Sempre, quando mi chiamate io sono qui. Ecco, per non perdere tempo entriamo subito in argomento. Partiamo dalle ultime ore, dagli ultimi momenti vissuti e coordinati dal Presidente Ferrarese. Qualche ora fa è stata organizzata la sistemazione di una strada che collega Orio alla statale pubblica per Tarot? Era ora che? Io veramente quando sono arrivato a fare il Presidente della provincia era ora di fare tante cose. Queste sono le immagini fresche, fresche. Mi sono reso conto che c'era veramente tanto da fare, tante situazioni che non si sono realizzate, situazioni pericolose, soprattutto per le nostre competenze che sono le strade, le scuole, la formazione e quindi il lavoro, il turismo, il marketing e veramente stavamo indietro sotto molti aspetti e ci siamo impegnati con tutta l'amministrazione, a fianco i miei assessori che hanno lavorato tanto e abbiamo messo in moto una serie di situazioni e i frutti si incominciano a vedere, nel senso che alcuni sono già partiti e alcuni sono stati già terminati, alcuni stanno partendo, alcuni sono partiti e alcuni partiranno a breve. Stiamo parlando veramente di decine e decine di milioni di Euro di lavori e da imprenditore capisco quanto è importante mettere sul mercato per le imprese e per i lavoratori dei lavori pubblici. Io ho un cappio al collo dell'amministrazione che si chiama patto di stabilità, nel senso che anche se hai amministrato bene e hai dei soldi in cassa non li puoi spendere per il famoso patto. Io lo dico, lo dico attraverso questa rete, lo dico ai cittadini della provincia, incomincio a essere un pochettino stanco di questa situazione perché voglio pagare le imprese, voglio fare i lavori perché la nostra è un'amministrazione sana, è un'amministrazione che ha tutte le carte in regola e quando l'amministrazione è sana, le carte in regola ed è un'amministrazione che ha decine di milioni di Euro da parte, non può non spendere. Presidente, io ho colto la soddisfazione di Cosimo Pomarico, proprio il sorriso sul lab del suo assessore ai lavori pubblici nel corso di questa presentazione, mentre ci veniva inviato il servizio. Forse pure Oria meritava un'attenzione, anche se Oria è stata circondata da rondò moderni, freschissimi. Noi abbiamo realizzato, stiamo ovunque realizzando, non solo i rondò che salvano la vita ai cittadini e chissà quante vite senza saperlo e quanti incidenti mortali stiamo evitando con quei rondò, ma non soltanto, stiamo ampliando strade, stiamo realizzando circonvallazioni, stiamo realizzando anche Camalcaverrovie, soprattutto alcune circonvallazioni che erano importanti per dei comuni. Noi stiamo lavorando su tutto, ci siamo impegnati a farlo e lo stiamo facendo, questa è la dimostrazione, ma non è finita qui, qui è iniziata. Vedrete quanti lavori faremo nonostante la crisi, nonostante milioni e milioni di Euro. Ecco Cosimo che gioisce. Il grande sindaco di Oria. Nonostante tantissimi milioni di Euro che noi oggi incassiamo meno dal governo centrale per via della crisi. Vi devo dire che se ci fossimo stati anni fa, quando c'era veramente il momento delle vacche grasse, chissà cosa avremmo realizzato. Noi con decine di milioni di Euro in meno stiamo amministrando, credo bene, non sta a me dirlo, ma soprattutto stiamo realizzando quello che nella provincia non si è mai realizzato in 30 anni. Presidente, in considerazione delle liberazioni attuate dal governo Monti e dal governo tecnico Monti, tutti sappiamo che è stato anche deciso che ci sia un aumento delle farmacie. E lui che fa? Lui che è padre di questo territorio corre subito dal Presidente dell'Albri di Sina e che cosa vuole? No, io a volte normalmente un Presidente di un ente dovrebbe occuparsi solo dei problemi che sono di competenza di quell'ente. La sanità non è competenza mia, ma da Presidente della provincia, forse purtroppo l'ultimo Presidente della provincia eletto dai cittadini perché con una legge direi strana, perché non voglio offendere nessuno, stanno cambiando il volto delle province. Se dovesse passare la legge che in questo momento è l'attenzione del Parlamento, la prossima volta il Presidente della provincia non avrà più autorevolezza, quindi non sarà più eletto dai cittadini come lo sono stato io e quindi a quel punto sarà un ente di secondo grado. Però oggi io sono un ente di primo grado, nel senso che sono stato eletto da tutti i cittadini della provincia e i cittadini quando eleggono Ferrarese o quando eleggono il loro Presidente della provincia non sanno quali sono le competenze, sanno che te ne devi occupare. Io me ne occupo, ho questo maledetto vizio di occuparmi delle cose e in questo caso mi sto occupando anche di quello di cui non è competenza la provincia. E' che tu chiedi un rispetto delle periferie? Del discorso delle farmacie, delle nuove farmacie, se ne occupa chiaramente, se ne occupano i comuni. Per la cronaca diciamo che alle spalle vediamo il Direttore Generale dell'ASL, la dottoressa Gianna Mea, che ho chiamato e alla quale ho chiesto solo una cosa, io non ho mai chiesto nulla all'ASL, in tanti chiamano il Direttore, potrà chiaramente testimoniarlo, io non disturbo, i Direttori che devono lavorare devono essere terzi di fronte a tutti, la politica non deve entrare nei discorsi della sanità, ci deve entrare quando? Quando deve chiedere il rispetto dei cittadini, io ho chiesto questa mattina alla Direttrice di tutelare le zone periferiche, di tutelare le zone 167, di tutelare la gente che è già lontana dai centri per farsi anche una passeggiata, è già lontana dai centri per andare a fare la spesa, è già lontana dai centri per andare in un negozio, ma possiamo realizzare le farmacie anche nei centri, quindi la zona 167 dei territori della mia provincia deve essere tutelata, la gente che oggi vive in periferia deve essere tenuta in considerazione di più di quelli che abitano al centro, invece ho sentito parlare di altre farmacie che si aprono al centro senza tenere presente, senza tenere in grande considerazione chi già ha problemi, chi già soffre di una lontananza da cose importanti e quindi ho chiesto di dare un parere tenendo in forza considerazione quella che è la volontà della provincia, di tenere in considerazione appunto la gente che abita nelle periferie, solo questo. Presidente, tu sai che se il 7 maggio si vota, sei anche impegnato, di questo ne parleremo più avanti, ma io volevo parlare di un argomento che ha attanegliato tutti i candidati sindaci nel rapporto col comune di Brindisi, soprattutto con il commissario Pezzuto, abbiamo accolto la mentele da parte di Brigante, da parte di Consale, cioè non la mentele, una richiesta per quelle decisioni importanti, dicono tutti i candidati, è che è meglio rimandare al nuovo Consiglio Comunale. Ora so che si accadrà qualcosa anche per, perché il Teatro Verdi che è una fondazione che appartiene anche, in questa circostanza come si risolve il problema? Il Teatro Verdi, i soci del Teatro Verdi sono il Comune e la Provincia, il Comune e la Provincia devono a breve approvare un bilancio di previsione e quindi per approvare il bilancio di previsione devono approvare prima i propri bilanci comune e provincia che non abbiamo ancora approvato e la fondazione del Teatro Verdi deve anche approvare una programmazione per l'anno, come teatro, per l'anno 2012-2013. È stato richiesto al sottoscritto di partecipare al Consiglio d'amministrazione di domani e io ho scritto che non parteciperò a questo Consiglio d'amministrazione perché non ritengo... Ma a di là dell'aspetto tecnico, quali sono le ragioni di spingere un commissario a prendere una decisione che spetta più agli organi deputati? No, no, il commissario in questo momento è commissario al Comune, ma è anche presidente della fondazione facente funzioni. Ah, fa l'uno e l'altro. Lo deve fare perché lo statuto della fondazione Teatro Verdi prevede che il sindaco facente funzioni, quindi il commissario, debba essere il presidente della fondazione e il presidente della provincia debba essere il vicepresidente della fondazione. Solo che io ho chiesto di rimandare questo Consiglio d'amministrazione in quanto non ritengo opportuno e corretto istituzionalmente decidere noi oggi, quando il 6-7 maggio ci saranno le elezioni, quindi sarà eletto il nuovo sindaco di Brindisi e quindi il nuovo Consiglio comunale che dovrà decidere quanto impegnare per il teatro e soprattutto quale tipo di programmazione teatrale vorrà fare. Non mi sembra corretto, è chiaro che se fosse a ottobre le elezioni non sarebbe giusto ad aspettare, ma siamo arrivati. oggi, siamo al 20 di aprile. La tua richiesta non l'ha accolta. No, no, io non so, io ho chiesto con un telegramma. No, perché noi abbiamo un documento, c'è la convocazione appunto, è una primizia che forse tu non sapete, è una convocazione che viene fatta per il 19 aprile alle 11.30. Approvazione, definizione, bilancio, mi sembra strano, come fate voi a provare questo bilancio se non c'è il bilancio vostro, il bilancio il comune. È quello che dico al comune. No, lo chiedo a te io. Io sicuramente non sono in grado e quindi non partecipo a quel consiglio di amministrazione e tra l'altro non voglio essere nemmeno diciamo scorretto nei confronti del futuro sindaco di Brindisi e del futuro consiglio comunale che dovrà decidere sicuramente quanto impegnare per il teatro. No, la riunione non va. No. Forse è condivisibile questa decisione. Per me la correttezza istituzionale è alla base. Faccio il presidente della provincia, quando poi sarò un cittadino comune potrò anche... Proviamo ad un atto di arroganza e di prepotenza che state facendo voi tramite il TAR. All'alberghiero Santro Pertini avete deciso col TAR fuori fino a 200 ragazzi. E dove vanno questi? No, non è assolutamente vero, non è assolutamente così. Noi terremo in grande considerazione i ragazzi e l'alberghiero era e rimarrà lì. Quindi se qualcuno pensa... Cosa è la faccenda? No, no, c'è un problema lì tra ASL e provincia, è un problema che stiamo risolvendo, c'è una causa in corso, ma di questo non devono risentirne né le scuole né i ragazzi. Quindi io finché sarò il presidente della provincia lavorerò perché rimanga l'alberghiero, perché rimanga la scuola e farò di tutto perché non accada nulla, perché a quell'alberghiero noi ci teniamo come ci teniamo a tutte le scuole della provincia. Questa è una risposta ufficiale che viene data a voi più che a me in questo senso. Assolutamente. Un'altra iniziativa che io credo apprezzato e penso apprezzeranno tutti gli sportivi di questo mondo, quando tu hai deciso attraverso un documento che venga adattato il defibrillatore sul caso che abbiamo, eccola qua, un apparecchio che è questo, partendo dal caso ultimo di quel giovane ragazzo, eccolo qua, di Pier Mario, che è rimasto lì vittima nel campo. Sì, è accaduto a Morosini, ma può accadere, potrebbe accadere, ed è accaduto anche a un ragazzo che giocava a basket da noi in partita. è accaduto cinque anni fa a Brindisi, un ragazzo appena finito, era nello spogliatoio a fare la doccia, era un playmaker e fu colto, ebbe un problema di questo tipo. Fortunatamente c'era l'autombulanza, in quanto è prevista l'autombulanza per regolamento durante la partita, la domenica, e quindi l'autombulanza aveva il defibrillatore come 118 e ha salvato la vita al nostro ragazzo. Bene, oggi penso che ogni amministrazione possa fare un sacrificio, che non è un sacrificio, ma deve essere un grande piacere, mettere a disposizione di ogni palestra e quindi di ogni scuola con palestra un defibrillatore. Spero che non dovrà mai essere utilizzato, perché si spera questo, noi lo faremo, io sto portando la proposta in giunta per 37 defibrillatori, siamo la prima provincia in Italia a far questo, ci capita spesso di essere i primi, perché abbiamo tanta voglia di far sviluppare il nostro territorio, di renderlo decente e civile soprattutto, quindi facciamo delle cose perché dobbiamo cercare di superare un gap con l'Italia del Nord e quindi siamo primi spesso perché dobbiamo accelerare, in questo caso siamo stati i primi a decidere questo in Italia, 37 defibrillatori per 37 scuole con palestra, dove stiamo facendo adesso una convenzione con il 118 della provincia per formare i professori di educazione fisica degli istituti superiori, in modo che possano essere formati a utilizzare il defibrillatore che è quello che stiamo utilizzando. Sì, sono defibrillatori che si chiamano semi automatici, proprio perché possono utilizzarlo non soltanto i medici specializzati, ma anche in questo caso per esempio i professori di educazione fisica, saranno formati per fare questo, anche a salvare una sola vita, speriamo in 30 anni, credo che abbiamo fatto il nostro dovere, non soltanto, ne parlerò col Ministro della Salute perché questo venga utilizzato in tutte le società e soprattutto in tutte le società sportive, che è vero che durante la domenica loro hanno la tombulanza in quanto è previsto per regolamento, ma è vero pure che durante gli allenamenti di tutta la settimana non c'è nulla. Quindi quello che rimane in dotazione. Quindi un defibrillatore utilizzato dal medico della società, da chiunque, può salvare la vita a un giovane che non sa di poter avere un problema genetico, un problema al cuore e quindi così salviamo la vita. Presidente, il 20 aprile c'è una grande inaugurazione, la fondazione Onlu della dieta mediterranea, questa è un'iniziativa che è già partita da parecchio tempo, lui ha mobilitato anche personalità di grande rilievo per questo senato e 20, in questo mese, qualche giorno praticamente, si realizza questa fondazione. Dopo domani. Allora, noi, mi scorcio a dire siamo stati primi, ma anche qui lo siamo stati, vedete, prima che la dieta mediterranea diventasse dell'UNESCO, una proprietà dell'UNESCO, non ci abbiamo creduto, perché è giusto spiegare ai cittadini, la dieta mediterranea non vuol dire una dieta, non si dimagrisce con la dieta mediterranea, perché non vuol dire quello che mangi, ma soprattutto vuol dire quanto ne mangi, le calorie che mangi, ma non è quello, è uno stile di vita, è un modo di alimentarsi per avere una vita migliore, per evitare malattie cardiovascolari, per evitare tanti tumori e oggi è riconosciuta nel mondo come la migliore alimentazione per fare una vita migliore e vivere quanto più a lungo possibile. Invece che cosa accade? Io questa ne farò una battaglia che porterò a livello nazionale. Che cosa accade? Noi siamo oggi, viene veicolata questa pubblicità di prodotti che fanno male, di prodotti soprattutto che vengono dall'Occidente, quindi dall'America, quando basta farsi un viaggio in America e vedere la gente com'è combinata, com'è obesa, proprio perché mangia porcherie, quelle porcherie sono pubblicizzate attraverso i nostri mezzi di informazione, tanti, e allora la gente muore, la gente si ammala, la gente ha problemi al cuore, la gente ha tumori, spesso ce la prendiamo con quello che respiriamo, ma il 90% dei tumori dipende da quello che mangiamo, non soltanto da quello che respiriamo, così come le malattie cardiovascolari, vengono soprattutto e sono dovute all'alimentazione. Allora noi mangiamo male, ci ammaliamo, chi si arricchisce in questo caso sono le grandi multinazionali che producono quelle schifezze, non ho problemi a dirlo, e le grandi multinazionali che curano le nostre malattie, quindi loro si arricchiscono, noi ci ammaliamo e allora che cosa sto chiedendo? E lo chiedo al Ministro della Salute, così come scriviamo dietro al pacchetto di sigarette, nuoce gravemente alla salute, se un alimento fa diventare obeso, fa avvenire malattie cardiovascolari, intasa le vene, non lo dobbiamo scrivere, e quindi dobbiamo scrivere che anche quegli alimenti fanno male alla salute, perché gli alimenti che fanno invece vivere bene sono i nostri, guarda caso, quelli che si producono nel nostro territorio, quelli autoctoni, che sono i nostri cereali, il nostro olio d'oliva, non i grassi, ma il nostro olio d'oliva. Questa fondazione deve veicolare, deve valorizzare, deve promuovere la dieta mediterranea, la dieta mediterranea tra l'altro vuol dire i nostri prodotti in tavola, e quindi non soltanto miglioriamo la vita ai cittadini, non soltanto riusciamo a far vendere questi prodotti ai nostri produttori, che sono i nostri produttori, e cerchiamo di attrarre investimenti nel turismo, dove daremo noi il bollino ai ristoranti e agli alberghi che utilizzeranno questo modo di alimentarsi, che non vuol dire andare a prendere dall'America o dalla Russia, ma è il nostro modo, il vecchio modo quando la gente viveva 90 anni senza tumore, senza malattie cardiovascolari, e oggi invece si muore perché ci si alimenta male. E queste cose non si dicono, e io le dirò anche alle televisioni nazionali, perché ci sono le multinazionali che speculano sulla vita dei cittadini, e ci sono le multinazionali delle industrie farmaceutiche che speculano su quello che hai mangiato, e quindi ti curano. Un cerchio infernale. Un cerchio infernale, però i cittadini lo devono sapere. Quante malattie abbiamo, quanto ipercolesterolemia abbiamo e viene curata con delle pillole? Abbiamo la pressione alta che è dovuta a una dieta sbagliata? Uno non ci pensa, ma a sentire queste cose c'è il cerchio, si produce e si cura. Bene, noi vogliamo veicolare nel nostro territorio la dieta mediterranea, vogliamo cercare di far utilizzare i prodotti per vivere di più. Quali sono i nostri? Tu per dare una taratura nazionale hai invitato pure il Ministro Battucci. Sì, abbiamo invitato il Ministro della Salute all'inaugurazione dell'Austuni, ci sarà la sede della fondazione della dieta mediterranea, e sabato invece nella Masteria San Domenico ci sarà il primo premio internazionale della cucina, dove ci saranno cuochi da tutta Europa, soprattutto dal Mediterraneo, che verranno e quindi verranno alla Masteria San Domenico. San Fasano, sono diversi i tempi, questa è però una bella notizia che crea, e mi piace pure quel cerchio infernale, no? Quella c'è da riflettere, forse alcune voi a casa dovresti fare una attenta riflessione. No, io chiederò di mettere dietro quelle schifezze che vengono prodotte e vengono somministrate solo per pubblicità, quella infernale, di scrivere Nuoce alla Salute. E' uguale, tanti bambini che mangiano soltanto quelle merendine che vengono pubblicizzate, quelle merendine sono mortali per i ragazzi, poi diventano obesi da bambini e gli creiamo il problema non soltanto fisico ma anche psicologico, quelle cose vanno dette alle famiglie, perché le famiglie invece sono indotte da una televisione dove vedono la pubblicità, dove si vedono delle famiglie meravigliose, tutti magri, che consumano a tavola alla mattina queste merendine, quelle merendine sono il male e creano il problema cardiovascolare da grandi e di obesità da piccoli, diciamolo. Presidente, il cresicassificatore non si fa più, la magistratura ha sequestrato, allora tu sei il dottor Jekyll, no? Il dottor Jekyll prima Presidente dell'Industria, oggi Presidente della provincia, attento osservatore della volontà popolare, beh questo ti fa onore. Io prima rappresentavo gli industriali e quella impresa che voleva costruire il ricassificatore a Brindisi era un'impresa che era iscritta a Confindustria e io da Presidente di Confindustria dovevo tutelare anche quell'impresa, io non decidevo dove, le istituzioni decidono dove, infatti ho sempre detto che è giusto realizzare quel ricassificatore e continuo a dirlo oggi, è giusto realizzare un ricassificatore, però bisogna realizzarlo dove decide la città, dove decidono i cittadini e dove vogliono le istituzioni, le istituzioni e i cittadini hanno deciso che lì non si deve fare e quindi ho detto ormai da anni all'LNG quando non ero Presidente della provincia ma ero Presidente di Confindustria, dicevo cambiate rotta, cambiate posto, è inutile andare a sfondare i muri in cemento armato, soprattutto se il cemento armato è stato costruito bene e quindi loro non hanno voluto farlo, non hanno voluto ascoltarmi e oggi è accaduto. Cosa faranno di quello? Non lo so cosa faranno, non so cosa decideranno di fare, pare che abbiano deciso alla fine di mollare, ma io gli consiglio di mollare quel posto, è inutile andare avanti lì, avranno sempre una città contro, avranno sempre le istituzioni contro, io per primo sarò contro. La LNG non ti ha ascoltato all'epoca? Non mi ha ascoltato, io ho fatto un sacco di proposte, veramente le proposte le ho fatte sia alla LNG che alle vecchie istituzioni, dove avevo proposto la realizzazione dei molli esterni, della costruzione dalla parte esterna del ricassificatore, all'epoca ero Presidente di Confindustria, mi hanno ascoltato, altrimenti avrebbero realizzato il ricassificatore, avrebbero costruito i ricassificatori, avrebbero realizzato sicuramente posti di lavoro, ci sarebbe stato anche l'indotto del freddo, invece la LNG non ha sentito, le istituzioni all'epoca non hanno sentito, soprattutto non hanno voluto incontrarsi, perché io capisco oggi, oggi è difficile, hanno fatto l'investimento, quindi ci sarà ormai una causa da fare tra gli uni e gli altri, ma all'epoca c'era la possibilità di riprendere il tutto, invece non si sono parlati muro contro muro e col muro contro muro, io ho imparato che nella vita non si va mai da nessuna parte. Presidente, l'LNG non ti ha ascoltato, però la magistratura sì, l'altro giorno hanno sequestrato 19 impianti fotovoltaici, sequestrati dalla magistratura fra Brindisi e San Pietro Bernotti, noi siamo stati i primi insieme a te a dire che oggi si va dal magistrato. magistrato? Sì, io devo veramente ringraziare la magistratura, ma non soltanto per gli impianti fotovoltaici, io devo ringraziare la magistratura e soprattutto la procura di Brindisi per il grande lavoro che sta facendo. La provincia di Brindisi è una provincia molto delicata, nella quale noi abbiamo avuto problemi seri con la malavita in passato, sappiamo quello che è accaduto e se non ci fosse stata una grande attenzione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, oggi noi saremmo ripiombati tranquillamente in quello che era la Brindisi di 30 anni fa. Invece abbiamo una magistratura attenta, abbiamo delle forze dell'ordine attente, io ho visto anche quello che è accaduto, non ci voglio entrare, ma non ci abbiamo fatto una bella figura all'aeroporto di Brindisi, dove a noi ci fanno togliere le scarpe per fare un viaggio e poi c'è qualcuno che mentre noi ci togliamo le scarpe per passare, per entrare nell'aeroporto, o ci togliamo la giacca e ci togliamo la cinta, c'è qualcuno che sta aprendo i nostri bagagli. E gente quella, gente che ha un posto di lavoro, quelle cose non si fanno, non si fanno per rispetto a se stessi, non si fanno per rispetto agli altri, non si fanno per rispetto a chi non ha un lavoro, a chi sta morendo di fame, tu non puoi aprire le valigie degli altri. Io posso pure capire che in mezzo alla strada uno ti apre la valigia perché deve andare a mangiare, perché non ha un posto di lavoro e non lo scuso, ma posso comprendere, non scuso chi ha lì dentro un posto di lavoro che deve dare l'esempio agli altri. Chiudo perché non voglio esprimere diversamente, invece faccio un plauso alle forze dell'ordine, alla magistratura per tutto quello che stanno facendo. Lì il fotovoltaico io feci un incontro quando è stato, un anno e mezzo fa con la procura, gli spiegai che forse c'era qualche furbetto del fotovoltaico. Fa c'era mille, un kilowatt qua, un kilowatt là, un kilowatt là, lui lo scoprì. E io non mi permettevo di dire i nomi di chi, ma mi rendevo conto da imprenditore prestato alla politica, poi questo prestito non so quanto durerà, però mi rendevo conto che è qualcosa che non funzionava, siccome non passavano da noi quei progetti, in quanto sotto il megawatt non dovevamo dare nessuna autorizzazione come provincia, però vedevo che ne facevano tantissimi. Allora avevo capito che eludevano quella che era l'autorizzazione facendone uno qui, uno lì, uno lì e quindi non si aveva la valutazione di impatto ambientale. La procura ha iniziato a indagare e quindi ci sono molti furbetto. Senti, come vai? Tu l'hai capito e gli altri no? No, io non mi permetto di dire questo. No, io voglio sentire, perché ce lo chiedono. Io sto dedicando la mia vita a fare questa cosa, perché nella vita appunto quando decidi di fare qualcosa, per te puoi anche farla male. Quando decidi di farla per i cittadini che ti hanno votato, io devo dar conto a più di 100.000 persone che hanno scritto Ferrarese e che oggi forse sarebbero anche di più e quindi hai preso un impegno con i cittadini e devi portare a termine. Come? Dedicandoti, facendo, svolgendo il tuo lavoro bene, spero, dalla mattina alla sera. E io questo sto facendo. Chiaramente lavorando tanto riesci a bloccare, come in quel caso, mica soltanto questo, questo l'ha bloccato di la Procura, ma io con un regolamento che ho fatto ho bloccato 6.000 ettari di fotovoltaici e specchi che avrebbero invaso tutta la provincia di Brindisi. Noi saremmo stati una provincia invasa dagli specchi. L'altro giorno abbiamo dato il parere negativo a Francavilla Fontana su 53, immaginate, 53 torri da 108 metri, che sono tre chiese madri uno sopra l'altro, che avrebbero invaso la città di Francavilla e sarebbero rimaste per l'eterno lì, 53, sarebbe stata la Francavilla, in Europa la città riconosciuta. Su queste cose dico che non c'è bisogno di Ferrares, che chiunque dovrebbe fare manifestazioni opporsi per il bene della città. Nulla contro Francavilla. Ma non ho visto un'opposizione forte, non parlo dell'opposizione, parlo in questo caso di chi amministra, a un progetto di questo tipo. Cioè un progetto di questo tipo devi dire chiaramente di non essere d'accordo, non si può minimamente tollerare o decidere di pensare quello che decide la provincia. È chiaro che dovevo decidere di no, ma che vuoi che vada a provare una bruttura del genere sotto l'aspetto ambientale? Ci sono già qualche pale degli impianti eolici a Villa Castelli, non approvati da me, lo chiarisco, perché noi siamo competenti in materia a rilasciare le autorizzazioni da un anno e mezzo. Prima era competente solo la regione e quindi era comune e regione. Io vedo oggi delle obbrobi dove ci sono proprietari di masserie che mi chiamano, giustamente si lamentano di quello che è accaduto, dove si fanno le masserie e si ristrutturano oggi per fare turismo e uno c'è la masseria qua e quello proprio lì o l'impianto fotovoltaico a fianco. Quindi io ne ho bloccati tantissimi e continuerò a farlo. Purtroppo mi sono messo contro tanti, come si suol dire, poteri forti, grandi gruppi, imprenditori, anche gente che stava con me in confindustria. Però se vuoi fare bene questo lavoro purtroppo non devi guardare in faccia a nessuno e a volte ti fai anche dei nemici. Mi tocca farmeli, però per il bene dei cittadini mi tocca farlo. Ci sono altri due argomenti perché poi voglio entrare nel settore della politica. Uno è, segnalazioni mi sono state fatte per quanto riguarda la piattaforma termodistruttore dell'ASI. Mi chiedono, nell'altro è un gruppo della centrale elettrica di Federico II a Metano. Mi hanno detto, chiedi e fatti darmi una risposta ufficiale da Ferraris. Io non so qual era l'obiettivo della domanda, ma ho capito però che si tratta di cambiare a Metano un gruppo di Federico II e di quella della piattaforma dell'ASI. Mi sfugge qualcosa? No, per quanto riguarda la piattaforma dell'ASI, diciamo che non è mia competenza come Presidente della provincia. Io quello che potrò fare è rilasciare un'autorizzazione, sicuramente lo farò, per salvare anche lì 30 famiglie che ci lavorano per far funzionare quell'impianto a norma, con un investimento di 50 milioni di euro che la nuova azienda dovrebbe investire. Pare che c'è un'azienda della Spezia. C'è un'azienda che si chiama Termomeccanica, che è l'unica che ha partecipato per poter far funzionare quell'impianto. Perché è costosissimo farlo funzionare. E quindi l'unica che è, tra l'altro è l'azienda che l'aveva già gestito e quindi conosce l'impianto, perché si è buttata pur di… Quando entrerà in funzione? Devono avere prima le autorizzazioni, devono costruire… Guardate, eh? Anche da me. Devono… Ma le darai le autorizzazioni? Se saranno a posto le darò. È chiaro che nessuno mi deve chiedere delle cose che… Ci sono spade di Damocle allora. No, se saranno a posto io le darò le autorizzazioni e sono convinto che loro saranno a posto. Faranno l'investimento, vogliamo vedere il progetto. Se non darà problemi ai cittadini di Brindisi, perché non possiamo da una parte risolvere il problema dell'occupazione e dall'altra parte creare il problema ambientale. Ma io sono convinto che l'azienda è seria, farà un buon progetto, noi daremo le autorizzazioni e quegli… Se vuoi toccare con mano. Quei lavoratori saranno salvi, spero, in quanto il progetto sarà realizzato. E per la centrale? Per la centrale. Io una volta al Ministro ho chiesto che l'unico modo per recuperare e ridurre il carbone a Brindisi è un gruppo dei quattro, alimentarlo a gas. Altrimenti, a differenza di coloro i quali in campagna elettorale sventolano fesserie, non voglio offendere, perché nelle campagne elettorali ci sono due modi per farle. Una è dicendo fesserie, prendendo in giro i cittadini, l'altra è offendendo gli altri. E io vedo fare l'uno e l'altro atto qui a Brindisi. Allora ho sentito dire, per esempio, ad alcuni, noi ci faremo dare 20 milioni di euro dall'Enel. Beh, come fai? Vai con la pistola col mitra da Enel a farti dare 20 milioni di euro e li daremo ai cittadini. Io dico pure ai cittadini, attenti a chi vi dice queste cose perché vi sta prendendo in giro. E lo sta facendo sapendo di farlo, perché nessuno può andare da Enel e si fa dare 20 milioni di euro così. Sì, io invece quello che sto tentando di fare con Enel è ridurre sicuramente un po' il carbone perché è giusto farlo, è decente farlo, ma soprattutto ridurre l'impatto non è della benzina che metti nella macchina, perché se tu metti la benzina nella macchina e dal tubo di scappamento non esce nulla, non inquini nulla. E quindi non è quello che metti, se lo metti in un modo giusto, con un carbonile coperto, con le attenzioni. E per la prima volta nella storia a Brindisi altri hanno fatto chiacchiere, hanno parlato, hanno gridato, hanno urlato, hanno fatto le manifestazioni, io non ne faccio manifestazioni, agisco. Oggi si sta realizzando il carbonile a Brindisi, non si era mai fatto in 30 anni, si sta iniziando i lavori del carbonile, si sta iniziando i lavori per il miglioramento ambientale della Federico II, con centinaia di milioni di euro. Questo stiamo facendo fare. Li sta mettendo all'Enel per migliorare il ciclo produttivo. sotto l'aspetto ambientale. Questo stiamo facendo oggi. E chiaramente con il nuovo sindaco di Brindisi, oltre al carbonile coperto, che vedo che sono quegli azzurri che si vedono, che oggi non ci sono, ma che li stanno costruendo, e i miglioramenti ambientali, cercheremo di fare delle convenzioni per poter ottenere anche economicamente qualcosa per il territorio. Ma non si può andare dall'Enel a dire dammi 20 milioni di euro. Perché se riuscissimo ad averne due e mezzo o tre, sarebbe veramente un grandissima risorsa. Perché per legge non devono dare nulla. Solo gli sciocchi, i falsi, e chi vuol prendere in giro i cittadini, dice una cosa del genere. Non devono dare retta a coloro uguali. In campagna elettorale dicono delle fesserie. Vediamo le fesserie che potrebbe anche dire il presidente, perché a lui è impegnato. Sicuramente gli tentano di non dirne, perché non mi deve leggere nessuno, perché sono già presidente. Baccaro l'hai ripreso? Sì, Baccaro è una persona... La parola Baccaro a voi non dici niente. È un assessore della provincia che era diventato sindaco di Cisternino. Eccolo qua. Perché doveva lasciare, poi è stato ripreso. Giusto. Donato Baccaro è diventato sindaco di Cisternino. Poi io ho fatto un azzeramento della giunta. Il Donato Baccaro rappresenta un partito, è l'espressione di un partito, che è il Partito Socialista, e c'erano dei problemi all'interno del Partito Socialista. Poi il Partito Socialista mi ha... abbiamo chiarito, quindi il Partito Socialista mi ha detto che per quanto riguarda Donato Baccaro potevo tranquillamente procedere. Io lo volevo, è chiaro, perché per me è una persona valida, onesta, concreta. E' quella che ti dà una mano pure ai rondò. E' bravissimo. Però è chiaro che io sento molto i partiti e adesso praticamente la situazione è stata sbloccata e quindi io da oggi ho il piacere di utilizzare, tra virgolette, di nuovo Donato Baccaro come assessore provinciale. E veniamo alla politica. Lui è impegnato in politica molto attivamente, perché ci sono due forze. Una che si chiama Noi Centro, significa Massimo Ferreri, e poi c'è l'Udc, che io da quello che vivo quotidianamente penso che sia diventato il figlio di Noi Centro, o tutta una cosa, non lo so, ora c'è. No, non credo che al limite sia Noi Centro figlio dell'Udc, ma sono la stessa... L'Udc è di Casini, che verrà anche sabato prossimo. Venerdì alle ore 16, all'hotel orientale a fare una conferenza stampa e incontrare i candidati. Ma no, c'è questo, l'Udc e Noi Centro sono la stessa cosa. L'Udc e Noi Centro sono rappresentati a livello regionale e nazionale da Pierferdinando Casini, quindi dall'Udc, a livello locale, anche in modo strategico, abbiamo voluto fare due cose, perché è giusto fare due liste, perché poi c'è gente che preferisce entrare in politica attraverso delle liste locali e non in un partito nazionale. Questa lista si riconosce, quella che era una volta la lista Ferreri, si è stata Noi Centro, si riconosce in me, ma io mi riconosco nell'Udc, quindi automaticamente è la stessa cosa. Ma prima di Brindisi si è stato capace di far alleare l'Udc a Fasano con l'area di sinistra? Beh, la coerenza, vedete la gente oggi c'è questo. No, la coerenza che a livello nazionale l'Udc si candida laddove ritiene condivisione. Io porto avanti un progetto di coerenza politica, cioè non possiamo stare da una parte e dall'altra, non possiamo far ridere i cittadini. Io ho questo ruolo nella mia provincia, nella mia provincia l'Udc ha scelto, ha scelto di stare con il PD. Fin quando ci sarà lealtà, modo di fare che c'è, autorevolezza, serietà, io starò con il PD. Io, poi non decido io. Sanza, nolente o volente, si è alleato con la sinistra. No, ma Sanza per me è una persona… No, sto scherzando. No, no, voglio dire… Cerco io di provocare. No, ma io capisco. No, no, ma dico Sanza è per me il mio fratello maggiore, una persona che io stimo, li voglio bene e che chiaramente a me ha anche dato qualcosa sotto l'aspetto politico, mi ha fatto un corso accelerato, se vogliamo. Stando vicino a lui, lui che aveva fatto per 32 anni il parlamentare, per me è stato facile iniziare ad aggredire, come si suol dire, la politica. Però quello che stiamo facendo è una nuova politica. Cioè io vedo… Perché lui sta condividendo. Lui sta condividendo ed è lui che ha voluto la nuova politica in Puglia. È lui che ha voluto me e tanta gente nuova in tutta la Puglia perché lui sapeva la vecchia politica quanti danni ha fatto. E io voglio fare quel tipo di politica, quella nuova. Che cosa sta accadendo? Io vedo un'antipolitica che c'è nei confronti della politica da parte dei cittadini. Si parla di antipolitica. Ed è giusto che ci sia perché tanti politici hanno fatto tante schifezze. E hanno sbagliato per esempio in passato a eliminare i partiti. Avrebbero dovuto eliminare gli uomini che hanno rubato, gli uomini che hanno fatto schifezze, gli uomini che sono stati sporchi. Ma caos, insomma. Non il partito. Ricordo la democrazia cristiana, il partito socialista, sono stati sciolti perché? Perché c'erano tanti uomini che avevano rubato, avevano chiesto le mazzette e quant'altro. No, vanno tolti gli uomini. Oggi lo dice la Lega. La Lega dice che la Lega deve rimanere e dobbiamo togliere gli uomini. Però all'epoca hanno remato contro la democrazia cristiana e il partito socialista per farli fallire come... E adesso loro fanno più schifezze di quelle che hanno fatto all'epoca la democrazia cristiana e il partito socialista. Allora io invece dico questo, la politica è di tutti, la politica è tua e mia e di tutti coloro i quali vogliono dare un aiuto noi ai cittadini. Non i cittadini devono aiutare noi, come tanti i quali si sono arricchiti, hanno chiesto le tangenti, hanno fatto le schifezze, si sono arricchiti costruendosi le case, le proprie abitazioni con i soldi delle tangenti e della politica. Quella politica la dobbiamo sbattere fuori perché se non ci fossero stati quei modi, se non ci fosse stata quella politica, oggi noi avremmo un paese sano. Tutto quello che noi stiamo pagando, noi andiamo oggi a pagare l'Imu tre volte, quattro volte tanto perché? Perché si è amministrato male, perché non sono stati corretti ad amministrare, un po' gente ignorante che ha amministrato. Non sto facendo di tutta l'erba un fascio, ce n'è stata tanta gente che non ha saputo amministrare e quelli che sapevano amministrare erano tanto bravi ad amministrare ma contemporaneamente rubavano. Quindi in un modo o nell'altro le amministrazioni sono state fallimentari e c'è stato uno Stato che rischia la banca rotta per chi ha amministrato. Allora oggi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in campo gente, dobbiamo prendere il meglio di quello che ha amministrato, perché non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Non tutti i deputati e i senatori sono corrotti, non tutti i sindaci sono corrotti, anzi fortunatamente ce ne sono pochi, di uno, dell'altro, dell'altro. Purtroppo si fa di tutta l'erba un fascio, come potremmo dire della magistratura. Anche in magistratura ci sono i giudici che ultimamente sono stati colti in fragranza di reato. Ebbene noi non possiamo permetterci di fare tutta l'erba un fascio. Dove vediamo che dobbiamo correggere? Dobbiamo correggere mettendo gente sana, gente che si parte dal presupposto che sia onesta, gente che abbia già dimostrato nella vita di aver saputo fare qualcosa e che l'abbia fatto con onestà. E ce n'è tanta, tantissima. Noi dobbiamo coinvolgerli a fare politica, perché la politica si può fare soltanto con passione e per mettersi a disposizione degli altri. Ecco, noi stiamo facendo con le nostre liste questo tipo di politica. Allora mentre c'è l'antipolitica e vedo partiti che fanno riunioni dove presentano candidati, dove vanno 100 persone e sono 40 i candidati, quindi immaginate nulla. Noi abbiamo presentato l'altro giorno al Teatro Impero le nostre liste e c'erano più di… Vediamo queste immagini del Teatro Impero e fanno una discussione. E c'era una grande soddisfazione vedere che mentre in Italia si parla di antipolitica… Era pieno il teatro. Da noi c'erano 1200 persone nel teatro, sotto, sopra, di lato, tutto pieno il teatro, di gente che è venuta a darci la soddisfazione di stare con noi nella presentazione dei candidati. E fa un eredio crollo del Giacchini. No, noi… io ci ho tenuto… c'è Uccio De Santis che è venuto insieme a Nicola Pastore a presentare la serata e io non ho voluto pubblicizzare Uccio perché non volevo dentro di me rimanere offeso dalla possibilità che la gente potesse venire per Uccio De Santis. E quindi non l'ho detto a nessuno e io ho fatto trovare Uccio De Santis e quindi era una sorpresa. Voi avete visto, c'era la serata, io l'ho pubblicizzata, non c'era scritto da nessuna parte. Prendelo. Non c'era scritto da nessuna parte che c'era Uccio De Santis perché volevo vedere la volontà e l'entusiasmo della gente nel venire ad apprezzare quello che noi dovevamo fare. Infatti tu sei stato uno del pubblico. In più hanno trovato Uccio De Santis che ha lietato la serata che sarebbe stata diciamo un po' pesante nel presentare 64 candidati di Udc e Noi Centro. Ebbene oggi dobbiamo fare questo tipo di politica nuova, mettendoci al servizio dei cittadini, lavorando dalla mattina alla sera, eliminando coloro i quali senza ammazzarli, senza nemmeno arrestarli. Io dico mettetevi da parte, avete amministrato, lo avete fatto male, c'è gente che ha fatto per esempio il parlamentare per 15 anni, 20 anni, che non ha mai fatto nulla nella vita per i cittadini. Ecco io non mi permetto di offenderli o che hanno fatto il consigliere regionale o che ha fatto il sindaco, se no non hanno mai fatto nulla. E' giusto che si tolgano di mezzo, hanno guadagnato tante centinaia di migliaia di euro, non li dobbiamo né arrestare né offendere, toglietevi di mezzo, abbiate quel senso di pudore di togliere di mezzo quando non avete fatto niente. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere oggi in politica giovani, donne, noi abbiamo bisogno delle donne in politica che spesso non hanno quel coraggio, non hanno veramente tanto tempo nemmeno, soprattutto quando non hanno famiglia. Dobbiamo coinvolgerle di più per cercare di far diventare la politica qualcosa di molto ma molto più serio. Soprattutto dobbiamo crederci, io spesso sento dire a qualcuno, l'ho sentito in televisione ultimamente, dice io non andrò più a votare. E vabbè, ma quando non vai a votare avrai fatto il piacere a coloro i quali oggi vivono di politica. Perché dobbiamo dire anche questo, non dobbiamo nemmeno alimentare e continuare a dar vita e stipendi a persone che non hanno mai fatto nulla nella vita. Ci sono persone che nella vita non hanno mai lavorato. Io non sto dicendo che chi non ha mai lavorato non può iniziare a fare politica, ma chi non ha mai lavorato nella vita non può di punto in bianco pensare di andare a fare il sindaco, il sindaco di una città, il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della regione. Perché se tu non hai mai saputo lavorare, quindi non hai mai vissuto in un contesto di lavoro, non hai mai fatto nulla, come puoi pensare di fare per gli altri se non sei stato capace di fare per te? E quindi è bene iniziare a mettere in politica anche gente che non ha un posto di lavoro, ma a sindaco, a presidente della provincia, a presidente della regione, a parlamentari, iniziamo a pensare di mettere il meglio. Se mettiamo il meglio sono convinto che il paese noi riusciamo a cambiarlo. Bene, che finisce questa prima parte, non dico prima parte, una puntata perché dopo l'elezione sicuramente faremo una grossa puntata con maggiori puntualizzazioni. Mi resta che ringraziare il presidente per tollerare un po' questa mia esistenza sulle tante domande, ma poi sono davanti ai tuoi concittadini. Io ringrazio voi, l'unica cosa che mi sento dire, non so se ci vedremo prima del 6 e 7 maggio, l'unica cosa che mi sento di dire ai cittadini, e lo dico con tutte le forze, se avete la possibilità, se avete un minuto tra il 6 e il 7 maggio, andate a votare, perché solo andando a votare possiamo cambiare la situazione e possiamo mettere in campo gente che ci può dare una speranza e un futuro. Grazie Presidente, un cordiale saluto a voi tutti.